Ben ritrovati su Ring4Universa e benvenuti al primo appuntamento del diario di bordo della missione New Horizons. Da ora fino al 20 luglio ci troviamo qui ogni giorno per parlare di tutte le novità della missione, come sta la sonda, quali sono le più recenti immagini e tutte le scoperte che verranno fatte. Quindi venite assolutamente, iscrivetevi per non perdervi tutti gli appuntamenti e iniziamo con una notizia un po' preoccupante. Ieri sera la sonda si è messa in safe mode, cioè modalità sicura, in cui ha spento tutti gli strumenti, ha cambiato computer da quello principale a quello secondario e ha iniziato a mandare a terra pacchetti su come stanno ogni strumento, come sta la sonda in generale, come va il suo software. E questo non va molto bene, nel senso che probabilmente c'è stato un problema che la sonda non è riuscita a risolvere in tempo reale. Ora, nel male c'è andata anche molto bene, perché questo guasto poteva succedere quando eravamo nel mezzo del transito. Quindi è meglio che sia successo prima, così possiamo trovare una soluzione in tempo. Un altro aspetto positivo nel male è che è successo dopo le manovre per orientarsi, per beccare bene Plutone e Caronte, perché l'ultima manovra è stata effettuata il 30 giugno e alcune piccole correzioni erano previste per il 4 luglio, ma poi è andata meglio e non c'era bisogno. Però se fossero successe durante il momento in cui c'era bisogno di riorientarsi, avremmo potuto mancare il target preciso per beccare la traiettoria giusta per avere le foto migliori della superficie di Plutone e Caronte. Quindi meglio così. Ora è stato, cioè è successo il guasto il 4 luglio, quando non erano proprio previste foto. Quindi abbiamo perso pochissime cose. Il 5 luglio erano previste, cioè oggi, soltanto alcune foto di Plutone e Caronte con note ed idra, che sono due delle lune più piccole. Il 6 luglio era prevista una foto, per cui probabilmente mancheremo i dati del 5 e il 6 luglio. Cosa comporterà questo? Beh, da una parte comparirà nel momento in cui faremo il filmato finale dell'avvicinarsi a Plutone e Caronte con tutte le foto in cui si vede che diventa sempre più grande e vedremo un momento in cui mancano dei frame e sarà per questo glitch. Dall'altra parte, note ed idra sono molto esterne rispetto al sistema di Plutone e Caronte e sono anche piccole, che sono grandi soltanto poche decine di chilometri. Quindi, avere un problema così quando sei lontano ti fa mancare dei dati migliori sulla loro luminosità, su come cambia, su come girano, su quale è la loro orbita precisa. E quindi è un po' un peccato, però non così tanto, perché alla fine comunque otterremo dei dati ottimi su tutte le lune. Quindi va bene lo stesso, non perderemo niente di rilevante. Ora, quanto ci metteranno gli scienziati a riparare la sonda? Beh, non sappiamo qual è il guasto. Potrebbe essere un problema riguardo a uno dei strumenti, che non ha funzionato come è previsto, oppure un problema software, molto più probabile a questo punto. Però, la parte positiva è che la sonda ha saputo esattamente come comportarsi. Cioè, non è scontato, perché se guardate la storia dell'esplorazione spaziale, vedete un sacco di sonde che improvvisamente hanno smesso di comunicare con la Terra. E noi non sapevamo cos'è che non ha funzionato. I russi la sanno lunga da questo punto di vista, perché hanno perso una marea di sonde verso Marte. E improvvisamente, mentre erano vicino al Marte, grazie al fatto che in quel momento devono fare tantissime cose, quindi il software è molto usato nel momento di maggiore stress, se c'è un minimo glitch, la sonda si spegne e addio. Invece, in questo caso, per un minimo problema, a parte che, come vi dicevo nel video della presentazione della missione della sonda, che trovate qui sotto, integrale, la sonda all'interno ha doppioni di tutti i grandi strumenti, quindi può cambiare se qualcuno non funziona, però il software interno, che è creato con un'intelligenza artificiale, in grado di capire quando e come comunicare con la Terra, e come cambiare da uno strumento all'altro, ha deciso che era meglio cambiare per evitare guasti. Potrebbe essere anche un falso allarme. Magari tutto funziona perfettamente, però, dato che sapeva che non doveva fare delle osservazioni molto critiche, e dato che fa ancora un tempo a comunicarlo a Terra, si è puntata verso di noi, il che ha richiesto diverse manovre molto precise, e non è scontato quando sei a 5 miliardi di chilometri di distanza circa, si è puntata verso la Terra, ha preso il contatto e ha iniziato a mandare lo status preciso di ogni strumento. Quindi va benissimo, questo ci sarà molto d'aiuto. Nel prossimo giorno circa, dato che servono 9 ore intere per comunicare avanti e indietro tra la sonda, verrà fatto il download dei dati, verranno mandati alcuni tool per verificare meglio lo stato del software, dopodiché verranno riscaricati questi dati, e in pratica nella serra verrà caricato il primo update, insomma per vedere, per dire alla sonda le prime istruzioni nuove su che cosa deve fare e come deve comportarsi. Se tutto va bene nell'arco di una giornata, la sonda tornerà a comportarsi benissimo e seguire il suo programma. È già oltre il punto in cui poteva fare le ultime manovre che erano previste per il 4 luglio, per cui attualmente non ha da muoversi, non deve fare altro che riattivare i suoi strumenti e fare foto. Quindi è tutto a posto, se riusciamo a farla riattivare entro domani va benissimo. Se no, se ci sono problemi, la sonda rimanderà lo status su cosa non ha funzionato, faremo un altro update, lo rimanderemo indietro e quindi forse ci vorranno due giorni invece che uno. Come vi ridicevo, fino al 7 luglio non ci sono altre immagini importanti, quindi va benissimo anche se ci mettiamo due giorni, l'importante è farcela quanto prima possibile. Ovviamente è una scocciatura, però non c'è nulla per cui strapparsi i capelli, anche se è stato da brividi, perché voglio dire, io non ho detto niente ancora, non ho fatto prima il diario perché volevo aspettare di avere più dati per raccontarvi meglio quello che stava succedendo, però quando ho letto nella notte il tweet sullo stato di New Horizons che è andato in safe mode, ci sono rimasto molto di stucco perché ho visto tante missioni nella storia andare malissimo per questo, quindi speriamo che vada tutto bene. Sicuramente nella live che faremo dal 14 al 15 saremo qui con la pede d'oca fino a quando non avremo il segnale finale, il chiamare quando ci chiamerà a casa, alle 3.02 di notte, quindi vi ricordo che il 14.15, dalle ore 10 del 14 fino alle 4 di mattina del 15, sarò qui in diretta sul canale per seguire tutto il transito, per aspettare quel beep e per parlare di tutte le scoperte, tutte le foto e quant'altro. Per adesso quindi tutto va bene, la sonda ha mandato quello che si chiama Anomaly Review Board, quindi tutti i dati su come sta andando, non c'è nulla di cui preoccuparsi, ci aggiorneremo domani, vi parlerò di come sta andando la foto e la sonda, in mezzo vi incastrerò nel video e alla fine altre foto e altri dati su le osservazioni più recenti. Cosa abbiamo visto? Abbiamo già scattato delle fantastiche foto del Plutone che ha una superficie molto più colorata del previsto, abbiamo visto delle grandi macchie scure, delle zone molto lisce sulla superficie, non ci sono crateri giganteschi che si vedono già da qui, è interessante vedere come Carronte ha una superficie molto più grigia di Plutone ed è un mistero dato che si sono creati insieme da un gigantesco impatto, quindi c'è tanta carne al fuoco molto interessante di cui parlare. Come vi dicevo, ci vediamo molto presto, domani un nuovo appuntamento, un grande abbraccio a tutti intanto, vi ricordo che potete vedere ogni giorno un sacco di aggiornamenti in più se andate sulla pagina Link2Universe con la 2 e mezzo, Link2Universe su Facebook e sul Instagram, sul profilo mio Instagram dove posterò tutti gli aggiornamenti live di come sta andando, impressioni eccetera e altre cose nerd, quindi lì mi trovate come adrian.link4universe, tanto trovate il link qua sotto. Quindi un grande abbraccio a tutti, noi ci vediamo a presto, continuate ad essere meravigliosi ovviamente e continuate a restare aggiornati su New Horizons.